ciao oggi faremo un video bellissimo doppio avanti stoppato quante siete avete tre possibilità a testa chi stoppa di più ovviamente vince cosa va bene fate una prova chi vuole fare una prova la faccia pure andiamo no apri prima non darci piano vieni qua vabbè uno scivolo avete fatto eh marty brava ok avete provato tutti iniziamo la sfida ok chi è la prima jadi molto felice di essere prima brava però è stoppato quasi eh camilla quasi erica vediamo se ripropone la performance di prima o peccato emma brava quasi quasi ire beccato beccato mici beccato letizia letizia conclude il giro brava quasi c'è tu marty c'è tu marty l'ultima secondo giro secondo giro no peccato abbiamo perso la jadi in buca c'è tu marty l'ultima c'è tu marty l'ultima la jadi in buca c'è tu marty l'ultima c'è tu marty l'ultima c'è tu marty l'ultima patrick puro le spartac interject zeria quasi le spartacolo le spartacolo Quasi, eh, Leti? Marti? Dai, dai, dai! No, direi di no. Emma? Dai, Emma! Dai, Emma! Dai, Emma! Dai, Emma! Dai, Emma! Due! Emma, top! Ma non potremmo fare la piste, la bella. Ahahahah! Dai, dai, dai! Dai, dai, dai! Sì! Uno! Dai, dai, dai! Troppa spinta, eh? Vai! Dai, 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 dai! Dai, staccalo! Dai! Ammasso un po' i piedi, eh? Sì! Però brava! Dai, Emma! Dai, staccalo! Staccalo! Dai, dai, dai! Dai, staccalo! Miki! Dai, Miki! Dai, Miki! Sì! No! Peccato! E' l'ora di Letizia! E' l'ora di Letizia! Dai, Miki! Primo! Ciao! Eh, 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 eh! Marti! Oh, la dite la mano! Eh, 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 eh! Dai, Marti! Dai, Marti! Staccalo! Dai, dai, dai! Peccato, Marti! Vediamo se, Emma... Questo è il terzo, Emma? Sì! È il terzo! E sei l'ultima? Sì! Allora... Dai, Emma! Dai, Emma! Dai, Emma! Dai, Emma! No! Non ci credo! Peccato! Avresti stoppato anche adesso! Quindi, siamo due a due con te? Due a due con la Emma! Allora, vediamo chi vince! E' l'ora di Letizia! Eh, beh, se lo pensi prima... No, no, non l'ho pensato! No! L'ho pensato mentre ho battuto tutto giusto! Eh! Eh, 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 eh! Oddio, come ho battuto avanti! No! Allora, la prima delle due che stoppa vince! Dai, Emma! Dai, Emma! No! Quasi! Allora, Emma, se stoppi, vinci tu! Dai, Emma! Dai, Emma! Dai, 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 dai! Non, è, masai! Dai, fatti! Dai, Emma! Dai, Emma! Non, non! Oh! Eh, eh. Allora Emma è il tuo momento No ma non ci credo No ma non ci credo Cosa ridi? Sì veramente No ma non ci credo No ma non ci credo Ah sì sì certo No ma non ci credo Vince questa bellissima sfida di oggi Emma Fadda Seconda posizione Emma Grisetti Dai è stata brava anche te vieni qua Chi è terza? Giada 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 di terza Speriamo che questo video vi sia piaciuto Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e lasciate tanti like Ricordatevi di attivare la campanella così riceverete tutte le notifiche dei nuovi video Ciao 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 Ciao